Il ritorno di Luca Paolo. Dopo la pausa estiva e la vittoria alle europee, torna con noi la segretaria del PD, Ellie Schlein. Buonasera. Buonorevole. No, allora, guardi, sono cose che non mi piacciono queste, eh? Perché sembra che poi voglio farla alla pubblicità. È stato un caso. Ma cosa? Non faccio il finto tonto che poi sembra che ci siamo messi d'accordo, eh? Ma così, guardi, se parla del libro che oltretutto sta mostrando, io non l'ho neanche nominato. Lo sapevo, io non sono venuto qui per far pubblicità e non insista che sono irremovibile. Ma quindi, allora, non parliamo del libro. Di cosa? Del libro, dico. Solo perché insisti. No, ma non ho insistito. Allora, parliamo del titolo. Ecco, perché su questa cosa del titolo... Allora, io lo volevo chiamare l'imprevisto. Con l'asterisco. Sì, sì, ma questa roba dell'inclusione, l'identità di genere, tutto quel bagaglio lì, ce l'ha fatto affetto. Eh? Vabbè, onorevole. No, ma no, ma lo dico con affetto, eh? Ok. Però ci siamo capiti male con l'editore. Invece di imprevisto, l'hanno chiamato imprevista. Ah, ok. Sembra il nome di un discount di occhiali. No, guardi, no. Quindi lei, invece di fare le vacanze, ha scritto il libro, ecco. Ancora con sto libro? Ma sì, vabbè. Tra l'altro, guardi, a me il concetto di vacanza non piace. Soprattutto persone fortunate come me, cioè la vacanza... Proprio non sia bello. Beh, che sensibilità capita, grazie. Ecco, soprattutto trovo insopportabile, guarda, quando nei posti ci sono... Chi? Come si chiamano? Che arrivi nei posti... Ah, tipo le code. No, no, dico, vai in vacanza e ti trovi in mezzo... Ma come si chiamano? Negli ingorghi, spesso in vacanza. No, quell'altra cosa, che arrivi... Chi sono? I poveri. Ma no, ma... Non mi veniva. Va bene. Cioè, capito, vai per rilassarti e li trovi lì sul mollo che ti guardano come dei gabbiani. Ma no, guardi, no. I poveri come i gabbiani, no. Allora, lasciamo perdere. Parliamo di politica. Il problema sono le alleanze. Ci siamo lasciati col Campolargo e riprendiamo da lì. Allora, Saronnetta. Sì. Questa cosa del Campolargo, guardi, ci pensavo proprio mentre scrivevo... Gliel'ho detto che ho scritto il libro? Sì, sì, il libro, sì, sì. Ah, questa cosa del Campolargo io non la posso fare da sola. Eh, ma Prodi ha detto invece che il Campolargo deve partire da lei. Ma l'orso gli oghi esce dalla tavola solo per menarla a me? Ma non può andare a giocare a bocce e non rompere... Onorevole, su! Ma è una volta che fa un buffetto, un complimento. Ho capito, ma la proposta avanzata da Prodi è importante. Quest'estate Renzi vi ha offerto l'adesione di Italia Viva, no? Sì, sì, no, guardi, io lo so quello che ha detto Renzi. Ho anche apprezzato la proposta di Prunzi. No, la proposta di chi, scusi? Di Guensi. No, ma se perché lei... Ma noi chiediamo a questo governo delle risposte su sanità, scuola, diritti... Si risponda chiaramente. Ce lo vuole Renzi nel Campolargo, sì o no? Sei bloccata? No, allora, la questione dell'Alleanza non si deve prendere mai da nome a nome. Sì, ma siamo parli di un nome solo, guardi, Matteo Renzi. Ma sembra che lei non riesca proprio a pronunciarlo, lo dice... No, ma va là, ma mi sa che il microfono è difettoso. Quando li provo... No, no, vedi, non ce la fa. Dopo la pausa estiva, quali saranno le linee guida dell'opposizione? Allora, guardi, Saronetta, perché a me dopo un po' giraci intorno, mica mi piace, eh? Allora, la cosa fondamentale è sapere cosa vogliamo per questo paese. Giusto, bravo. Quindi, dica. Cosa? Lo ha detto lei, la cosa fondamentale è cosa vogliamo per questo paese? Ah, beh, glielo ribadisco. E che cosa vogliamo? Ah, lo devo dire io? Eh, certo lo deve dire lei. Ma cosa ne so? Ma non posso mica far tutto io? Riprendiamo dai punti programmatici. Allora, su quella sono preparato. Allora, lo dico anche nel libro. Allora, punto, pre... Glielo ho detto nel libro? Sì, sì. Allora, salario minimo, sanità pubblica, diritti politiche industriali. Perfetto, sanità. Intende dire che per risolvere i problemi ci vogliono più soldi, no? Eh, così è banale. Io dico più personale. Eh, quindi più soldi. Più personale, quindi più soldi, no? È la stessa roba. Eh, ma se vuol più personale bisognerà anche pagarlo. Tutti quanti devo pagare? Eh, beh. Vabbè, ma adesso non è che devo far tutto io. Allora, ci siamo capiti. Per esempio, lo sa che gli insegnanti italiani sono i meno pagati d'Europa? Lo sa? Eh, lo sanno tutti. E cosa si fa? Li mettiamo a fare gli infermieri. No, vabbè, senta. Sulla risoluzione per il sostegno all'Ucraina, il PD si è letteralmente spaccato. Una parte della vostra delegazione l'ha seguito Zingaretti. Oh, sinceramente non me l'aspettavo. Eh, non si aspettava che Zingaretti votasse contro? No, che prendesse una decisione. Io l'ho mandato in Europa perché continuasse il lavoro politico che faceva prima in Italia. Cioè, una mazza. Ah, ecco. Non puoi più fidarti di nessuno. Ma chi se lo aspettava? D'altra parte... Ma di una cosa però sono certa. Questo conflitto deve finire ora. Ecco, e come si fa a farlo finire ora? Quando saremo al governo glielo dico. No, ma se deve finire ora non me lo può dire tra qualche anno, capito? Però una cosa gliela posso dire con franchezza. Dica. Di scorciatoio io non ne voglio. So che il PD tornerà al governo quando vincerà le elezioni e questo mi lascia sereno. Eh, ma perché sa cosa fare, eh? No, perché quando il PD vincerà le elezioni sarò già nonna e sarò con mio nipote a Pechino Express. Va bene, a te la linea Floris. Del libro? No, l'abbiamo già detto. Il... Il...